Come poter collegare finalmente il tuo pannello operatori Siemens con un PLC dell'Allenbradley, quindi della Rockwell. Ciao e benvenuti all'interno di questo nuovo video, sono il dottor Stongole Alessandro, programmatore PLC ed esperto in ricerca guasti. Oggi sono qui proprio per dimostrarti i vari passaggi, anzi diciamo mostrarti i vari passaggi per interfacciare il tuo prodotto Siemens con un prodotto di un altro tipo di brand. I passaggi saranno veramente semplici e saranno veramente pochissimi, quindi seguimi fino alla fine per non perdere alcun tipo di dettaglio tecnico. Il primo step, dopo aver aperto il tuo porta e l'avere inserito il tuo pannello operatori nel progetto, devi andare sulla pagina Connection, quindi dedicata ai collegamenti. Aggiungi col doppio clic un nuovo collegamento e vai a definire il tipo di PLC se ne hai uno o più. Successivamente nella parte riguardante i drive vai a definire il tipo di PLC con cui comunicare. Adesso facciamo l'esempio pratico col PLC dedicato con l'Ethernet IP, quindi dove all'interno non abbiamo una gestione seriale ma abbiamo una gestione attraverso la rete Ethernet. Una volta fatto non devi impostare tantissimo, l'indirizzo IP per quanto riguarda il tuo pannello operatore va fatto direttamente nelle impostazioni del pannello, è lì che va specificato il tutto. Però quello che devi andare a specificare è il pannello con chi va a comunicare, in questo caso devi andare a selezionare nella parte destra il tipo di PLC. Se è un SLC o un micro RAW della Logix, oppure una Control Logix o una Compact Logix. In questo caso possiamo ipotizzare questo tipo di modelli, che sono i più gettonati ma dipende anche dal settore tecnico, e poi successivamente di andare a impostare l'indirizzo IP. Una volta fatto questo passaggio, la parte più macchinosa, meno macchinosa, non diciamo meno macchinosa, è già stata fatta. Dopo devi integrare tutte le variabili, devi andare a creare la grafica, creare le tue simulazioni, creare tutti quelli che sono i tuoi grafici, creare le tue pagine e far funzionare il tutto. Naturalmente devi andare a simulare, non partire col presupposto che tutto possa funzionare, perché ci sono tantissimi altri problemi che potrebbero verificarsi. Se vuoi vedere altri argomenti come questo, che vanno sempre a creare più competenza all'interno della tua sacca da professionista, allora ti consiglio di cliccare il pulsante iscriviti, anche il pulsante abbonati perché nella Masterclass andremo a vedere step by step come questi processi possono essere semplificati e fatti molto più velocemente, soprattutto se ti troverai in cantiere e non sai come fare. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!